Penso che un sogno così non ritorni mai più Mi ripingevo le mani e la faccia di blu Poi d'improvviso venivo dal vento rapito E incominciavo a volare nel cielo infinito Lo sto facendo perché mi vio obligata a non avere risposta di esso Io al sentire che esso non mi contesta nulla, non mi dà risposta di nulla Quindi non mi quedo altra salida Primero le pedi per favore che necessitava la plata perché ho due figli E non mi dà risposta, non mi contestano, mi hanno blocato di Whatsapp la dueña E così sucessivamente Io la plata la necessito perché ho famiglia che mantenere Trabajé due mesi e mi deve quasi un mes completo E non hai avuto risposta? Non ho avuto risposta Non mi hanno saputo explicar, non mi hanno saputo dire nulla Quindi loro al non dicere nulla io non encuentro altra salida che tomar Perché se loro saldranno e mi dicono Mirà, per tal fecha tenemos tu plata O non ti stiamo podendo pagar per tal motivo Io lo entenderia Però loro non mi dà risposta, non mi contestano nulla, non mi dicono nulla, mi bloqueano Quindi non mi queda altra salida Io solamente, come io le dico, io voglio cobrare lo che le corresponde a mis hijos Perché io lavoravo per loro Le hice chiamato di attenzione a través di le redes sociales Lo hanno visto però non mi hanno detto nulla Io sì mi sento hostigata per le redes sociales Me voy a contactare con la persona e le voy a decir E le voy a explicar X motivos Però ellos non lo hicieron E, bueno, igualmente te vas a quedar acá Hasta que tenés una respuesta Me voy a quedar acá hasta que ellos puedan salir Y me puedan decir por lo menos Hasta tal día vamos a tener tu plata O vamos a darte respuesta de algo